Anche il 2019 è finito e quest'anno è stato veramente un anno fantastico. Ho iniziato con la B-Twin Rockrider 520S, una MTB Hull. Poi sono passato alla Specialized P2, che è una bici da Durcham. Per finire ho con la bici da Trial, che è questa qua. Vedrete in ordine cronologico tutte le clip più belle registrate quest'anno. Godetevi il video, ragazzi! Grazie a tutti! 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 Ciao! ! 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